Ok Rap futuristico Rap futuristico Rap futuristico Rap futuristico Mi fratello gemello Stefano è un ragazzo molto molto buono molto sicuro di sé generoso e il suo difetto che magari per quanto mi riguarda a me magari vuole far sembrare che tutto va bene per non farmi soffrire però anche lui alla fine ha un cuore magari è sensibile Lei è Stefania ha 26 anni perché siamo gemelli è una sportiva gioca a pallavolo la seguo sempre l'anno scorso ha vinto il mio giocaratrice in un campionato italiano Quando eravamo piccoli eravamo molto più vivace abbiamo fatto fino alla terza media insieme a scuola non faceva mai compiti lui faceva i compiti tutti lui giocava a calcio tornava la sera e mi copiava tutti i compiti sbagliato e non copiava neanche bene no? no mi piace Bruxelles mi piace perché è una città multietnica ci sono molte razze poi ieri siamo andati allo stadio per il nostro compleanno ho visto mio fratello giocare abbiamo fatto una cena tutti insieme e oggi siamo qui sì perfetto quando gioco non penso tanto al mio contorno penso soprattutto a fare il mio lavoro che è quello di giocare e cercare di far vincere la mia squadra siamo andati un po' in difficoltà ma è meglio andare in difficoltà adesso perché significa che abbiamo tantissimi margini di miglioramento per il futuro quindi non c'è alcunissimo problema abbiamo giocato contro una buona squadra ma anche noi siamo una grande squadra quindi non abbiamo paura di nessuno l'importante è capirsi cercare di conoscersi e poi quando partono le cose sicuramente ci saranno tante cose belle da fare è acqua eh buona